Ciao a tutti, quest'oggi recensione di questo caricatore da muro del iCleaver venduto da Elexmart, azienda venditrice su Amazon. Questa è una doppia porta USB, ciascuna da 2,4A per un totale di 24W. Ho mini presente la garanzia, manuale di istruzioni e carica batterie da muro. Ha una funzione Smart ID che è quella che permette di avere una protezione completa per tutti i Davis collegati a questo caricatore, sovracorrente, cortocircuiti, riscaldamento della batteria o riscaldamento del caricatore. Quindi possiamo stare tranquilli per qualsiasi evenienza. Facciamo subito la prova di questo caricatore. Luce blu all'interno, molto lieve per non dare problemi perché a volte possono dare un po' fastidio i colori accesi magari durante la notte. Colleghiamo Perfetto, avete sentito il tempo di ricarica 15 minuti Velocissimo e colleghiamo anche Il tablet Diamo il tempo al tablet di Ragionare un attimo Intanto testiamo e vediamo Allora, il S6 sta caricando Il tablet sta caricando Tra l'altro la porta Smart Le due porte Smart ID sono quelle che controllano la potenza assorbita dal Davis, quindi tablet o smartphone che sia Ed erogano La potenza necessaria Più veloce per appunto una ricarica rapida Quindi possiamo ricaricare i nostri Davis rispetto ai normali caricatori da muro con una velocità più rapida perché questo legge Tranquillamente La potenza necessaria a una carica rapida Quindi direi Accessorio Più che valido Test superato Grazie ai Cleaver Ciao a tutti 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 Ciao a tutti